Ciao a tutti e buongiorno, allora risultato dell'ultimo video, vi avevo fatto il video in cui vi avevo chiesto consigli su come portare avanti il canale, su cosa fare del canale, insomma per chiedervi consiglio l'avrete visto Sono stati lasciati veramente tantissimi commenti, mi sono arrivati migliaia di messaggi privati e quindi è un po' difficile che io riesca a rispondere a tutti o che almeno ci riesca in un breve lasso di tempo Quindi ho preferito fare questo video in modo da farvi capire che ho letto tutto, ho apprezzato tutto tantissimo perché siete veramente riuscite a farmi capire cosa c'è che va e cosa c'è che non va Quindi veramente grazie di cuore perché ne avevo proprio bisogno Ci sono stati anche commenti che non condivido perché si ha un'idea totalmente sbagliata di me ma come voi giustamente mi avete detto la cosa che mi avete suggerito di più è di darvi più di me Effettivamente questa è una cosa che io non faccio, non lo faccio caratterialmente e non sono abituata a farlo su Youtube Io non sono una persona che si dà neanche in amicizia, cioè neanche in amicizia quelle nelle amicizie più personali anche col mio miglior amico Spesso ci troviamo anche mezz'ora al telefono e magari è sempre lui che parla e io racconto poco di me Racconto poco di me perché proprio non sono abituata a raccontare la mia vita, sono abituata a viverla anche in modo molto presente, cioè in modo molto riflessivo vivo Quindi ci sono, formulo tanti pensieri sulla mia vita, ho tante opinioni, ma vivo molto con me stessa Quando io ho un problema non esiste che io ne parli con qualcuno Sì, ne parlo con Stefano perché io e Stefano siamo tipo una persona sola, cioè siamo tipo fusi in una persona sola e quindi in qualche modo ne ho bisogno Però se devo dire che ho un problema, allora ci sono gli amici che mi aiutano? Sì, i miei amici mi aiuterebbero, anche in questi giorni dopo questo video mi hanno scritto in privato ragazzi e ragazze di Youtube che conosco personalmente Sono stati veramente pazzeschi, nel senso se vuoi ho bisogno e io le ringrazio veramente tantissimo Purtroppo sono abituata, purtroppo, non lo so se è un purtroppo, però sono abituata a risolvere i miei problemi con me stessa Quindi non mi racconto, questo non succede solo nei problemi, cioè se io sono super felice, capita spesso che si sia super felice perché mi succede qualcosa eccetera Non è che chiamo quello e gli racconto, quindi io praticamente non sono abituata a raccontarmi Vivo senza parlare della vita che faccio con nessuno, anche nella vita qui reale intorno a me Ho pensato a questo cambiamento che ci potrebbe essere qui su Youtube, non che io abbandono la mia passione dei vestiti e cose perché quella è la mia passione Cioè io veramente mi fa stare bene, tipo vestirmi in un certo modo, andare alla ricerca di certi vestiti, parlare con voi, condividere Cioè è quello che mi piace Però ho pensato insomma che potreste essere forse utile anche per me in modo da affrontare, da cominciare ad affrontare la mia testa in modo diverso Quello di raccontarmi anche a voi in modo anche da ricevere un feedback, cioè nel senso magari come mi avete consigliato questa volta mi potreste consigliare anche altre volte in cui ho bisogno Quindi sì insomma dicevo, ho pensato che avrei potuto cominciare a dirvi del mio, a cambiare un po' il modo, anche per cambiare io Cioè perché magari potrebbe essere un'evoluzione in positivo verso una persona che è diversa, sto cambiando molto in questo periodo Quindi magari mi poteva essere utile Mi sono anche chiesta se lo volevo fare Cioè in questi giorni ho anche detto ok, chiudo il canale Ma non perché sono scontenta, perché mi voglio lamentare di questo Ma mi piace condividere quello che mi piace ma di me non so quanto mi piace darvi Però non è neanche giusto che dopo 4 anni io rimanga così come la persona che appunto ripeto fa video così Quindi insomma sono stata molto, ho pensato molto E allora ho detto, se siamo in un periodo di cambiamento vediamo se si può cambiare Perché se io decidessi di chiudere il canale ora vorrebbe dire che ho dato retta e ragione alla parte di me che rimane chiusa in sé Ma voglio provare a fare questa cosa e stendo in un periodo di cambiamento voglio sperimentare su me stessa Detto questo vorrei ripartire, vorrei provare, vorrei tentare questo esperimento Partendo a raccontarvi quello che mi è successo in questo ultimo periodo E perché appunto mi sono allontanata da Youtube Perché sto facendo video forse appunto peggiori del solito Perché li faccio in modo discontinuo E tutte queste cose qui che voi non sapete Mi sono trovata proprio in un momento di crisi con me stessa Perché cosa è successo? Allora io sto facendo l'università, da tanti anni ho iniziato in ritardo Ho avuto altri ritardi Ora sono in ritardissimo perché ho 27 anni e ancora mi devo laureare Mi devo laureare, devo prendere la magistrale Quindi sono in ritardo di molto L'ultimo anno c'è stato un problema grosso perché io non riuscivo a passare un esame Quindi tra che mi segava il professore Tra che avevo troppa ansia per riuscire a mettere due parole in fila Tra che tante volte non sono andata all'esame perché stavo male Stavo troppo male Sono entrata in una crisi nera perché oltre al ritardo che avevo Appunto c'è stato questo episodio che mi ha bloccato l'esistenza Questi episodi perché non l'ho passato un anno praticamente con l'esame Quindi insomma mi sono trovata molto in difficoltà con questo esame Questa cosa ha portato a una me bloccata Bloccata nella vita Proprio bloccata Terrorizzata Mi sono trovata a un punto in cui non sapevo in che direzione andare Non sapevo se volevo andare in qualche direzione Costretta ad essere sempre ferma Mi sono guardata intorno in modo molto più analitico Mi sono resa conto di trovarmi in una situazione con me stessa Che non mi piaceva affatto Insomma mi sono trovata in questa situazione il cacchio scontenta Non della mia vita esterna ma della mia vita Di essere in un certo modo diciamo Questo essere in un certo modo cos'era? A un certo punto ho realizzato che dopo svariate crisi Perché ci sono state anche crisi fisiche, vomito, panico Insomma roba tostetta Ho capito che questa situazione era dovuta al fatto Che da un po' di tempo, forse anni Io non ho vissuto veramente per quella che sono In adolescenza è stato perché in qualche modo il carattere si forma Le persone che siamo Stiamo diventando le persone che dobbiamo essere E io mi sono trovata a riguardarmi indietro nei momenti di posa A vivere anche anni interi in un modo in cui non ero Ascoltare un certo tipo di musica perché così doveva essere La musica è una stronzata ma è segno Scusate la stronzata ma è vero Ma è segno di comunque È segno di qualcosa Oppure di dover avere un certo carattere Perché credevo che quello Cioè usavo quel carattere come protezione Per altre cose Cioè magari mi fingevo Perché mi fingevo una persona cinica Perché avevo Mi sentivo troppo debole per affrontare delle emozioni Quindi preferivo tenerle allì fuori Quindi questo stiamo parlando diciamo al liceo Strozzo E poi Ho cominciato a cambiare A crescere E quindi siamo entrati in una fase ulteriore Ovvero di maturazione Negli anni in cui mi sono messa con Stefano Quindi parliamo di 7-8 anni fa Comunque in quel periodo lì Mi sono trovata a maturare Quindi a cambiare A lasciare da parte la me cinica La me che non ero E a tentare di diventare quella che ero Per me è stata la prima Il primo grado di liberazione Da una me finta Perché finta veramente Finta nel senso proprio fasulla Che era prima Insomma stavo diventando me Questo percorso è stato piuttosto faticoso Ma intanto la mia vita è diventata molto bella Sono innamoratissima di Stefano E lo sapete E il nostro Cioè si è creato quel rapporto E' veramente Perfetto E speciale E quindi quella La zona Quella zona La zona sentimentale Che tra l'altro Per me è stata sempre molto Travagliata Diciamo Si è totalmente Assestata Sono molto felice Di quella cosa Di Stefano Del nostro rapporto Insomma Della memoria Sono veramente molto felice In famiglia Le cose sono andate Più o meno bene Per Vabbè Le cose che succedono Via via È morta la mia nonna E era una persona Che cioè Era come la mia mamma Cioè tipo Ok Quindi di quello sofferto Però anche in famiglia Non posso dire Di vivere una situazione Disagiata O cosa Cioè sono Molto tranquilla Ho un bello rapporto Con i miei E Insomma Poi c'è stato YouTube Che è stato un altro tassello Di questo E anche YouTube È andato bene Perché insomma Siamo qui Dopo anni E Sono Felice di come sia andata Più o meno felice Di come sia andata Ma comunque è stata anche quella Una fetta importante Perché È bella Perché ha portato Le sue soddisfazioni Cioè mi ha portato A avere delle soddisfazioni Eccetera Tra Quest'inverno Essendomi trovata Ferma Bloccata Quindi con dei problemi Che in questi anni Non avevo avuto Sono stata costretta A riflettere E a capire che Sì Io la mia vita L'amo Veramente L'amo Ma la stavo cominciando Cioè era un po' di tempo È un po' di tempo Che la stavo vivendo In modo passivo Forse anche per gli altri Più che per me stessa Ho rinunciato a cose per pigrizia Ho cominciato a vivere L'università Non più come qualcosa Che facevo per me Ma come qualcosa Che dovevo finire Per gli altri Per gli altri Che sono i miei Poi fondamentalmente Ma anche per Insomma Le persone che ho intorno Non lo so Ho vissuto molto Lasciandomi vivere Ho vissuto molto Lasciandomi vivere Lasciando che le cose Che comunque andavano bene Facessero il loro corso Ma io Allo stesso tempo Ho abbandonato la presa Sulla mia vita E l'ho lasciata scorrere Quando io non riuscivo A dare quell'esame Quell'esame è stato Il segno Che stavo vivendo Ma all'università A catena Ho riflettuto Su tutto il resto Ho calato a fare Video su youtube Perché anche i video su youtube Mi stavano diventando Una cosa che C'è nella mia vita Va bene E quindi sono costretta A farla Sono costretta a portare avanti Perché se è una cosa Che va bene Non ti puoi lamentare Di una cosa che va bene Non puoi interrompere Una cosa che va bene E sono cose difficili Da spiegare Ho vissuto per tanti anni La mia vita Dal lato sbagliato Una volta resa Mi conto di questo In questi ultimi mesi Ho cominciato A attuare il cambiamento Quindi Ho tirato Ho lasciato la mia famiglia Fuori dall'università E ho dato l'ultimo esame Che ho passato Benissimo L'ho dato per me Non ho avuto Cresi d'ansia In questo senso Perché Sono stata male Certo io Sendo un tipo Anzioso eccetera Ma non me ne sono più Trovata a vomitare la mattina Perché ho visto Per la prima volta Dopo tanto tempo Il vero motivo Per cui io stavo dando Quell'esame Per me In un certo periodo Mi sono sentita dire Tante volte Dovresti fare così Dovresti fare così Dovresti fare così E a un certo punto Ho tagliato il dovresti Ho cominciato a infamare Le persone che mi dicevano Dovresti Anche se magari Erano solo consigli Perché io avevo bisogno Di staccarmi Dalla Da quello che gli altri Pensavano Che io dovessi fare E ritornare a fare Quello che volevo fare Perché io lo volevo fare Adesso sto Sto intraprendendo Questo percorso Che è di Recupero Della parte Di me Che ho lasciato Non so neanche Dove l'ho lasciata Perché tra l'essere Stata quella Che non ero E tra l'essere Stata comoda Non essendo veramente Pienamente me Non so neanche Dove l'ho lasciata In tutto questo Voi sono sicura Che penserete Oddio quante seghe Ma avete idea Di quanto si può stare male A non essere Pienamente se E quindi Cioè proprio Io adesso mi sento Tipo in una via Di rinascino Io sto rivedendo La situazione in cui sono E per la prima volta Nella mia vita Seriamente Sto riuscendo a Mettere le cose Mettere le cose Nel giusto verso Quindi sono Felicissima di questo E ok Allora Questi sono stati i problemi Che ho avuto In questo periodo Ci sono state anche cose Bellissime Che vi racconterò Se avete voglia Di ascoltarmi In un prossimo video Per ora Io ripartirei da questo Ripartirei da questo Chiarimento di situazione Ho tante cose da dirvi In questo nuovo percorso Quindi spero Vogliate Non so Seguirmi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao